Grazie a tutti! Vedi che chi finisce per ultimo li fa partire per tre... è così? No, no, non so! No! Vedi che fa la nostra! Dai, Grigi! Beh, è meglio però in finale, vuol dire che ci siamo arrivati! Qual è il figlio di quello che non mi ricordo? No! 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 Dai, Tommy! E Tifa, eh! Bravo, bravo, bravo! Dai, dai, dai! Dai, dai! Mamma mia! Dai, Robi! Sì! Eh, ho sentito! Oh, la c... Eh, la ha toccata... Eh, la ha toccata... Eh, la ha toccata... Ormai l'ha schiacciata... La... Se ne ha accorto che... Bravo, Luca! Bravo! 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 Junio! Junio, Juna... Però che non si ha rotto che soitycio? Io non capisco! Io non capiscco! Io non capisco! Deci tu cosa gj happate… Io non capisco… il Junior il Junior un Sostegno un Sostegno un Sostegno un Sostegno attaccare in avanti vieni tre a campare lavoro sporco dai 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 bravo ma va bene bravo bordo deciso stanno entrando più fattivi vai raga dai 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 dentro Giulio ruota dentro bravo vai vai ancora vai Luca va bene va bene non guardo il tiro di Luca vado verso la porta porto 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 breccani incontro breccani incontro e giusto dai trecchi deciso però corpore scusa è l'uio è presa è presa possiamo ripartire bravo un bel rapporto da Vai, vai. Dai, dai, dai. Prendi posizione per cerco. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Ricompaniamo dentro. palmi, palmi bravi, ricomponiamo dentro sta ad allungare Giulio, c'è Boroncio a vertice arrivo per non girare dentro va bello buona 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 calma ragazzi, calma cerchiamo di provare gli appoggi Jack, molto bene ma subito dentro ragazzi 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 dobbiamo vincere il nostro duello non è un problema ma vai in mezzo no bravo 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 Grazie a tutti. 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 tanto spazio bravo cambi 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 lavora subito su schegni vai ruotare dentro Giulio allunga lì prendi il vertice dentro 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 bravi questo qui bravi 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 brava bravo 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 Vai Lucca! Vai Lucca! Vai Lucca! Vai Lucca! Vai Lucca! Vai Lucca! E' malo! Lavora sul sostegno! Vai Lucca! Brava Lucca! Vai Lucca! Vai Lucca! Vai Lucca! Calma ragione! Lato palla! Lato palla! Lato palla piccola! È giusta! Dai Bernard! Oh! Bravo Ale! Bravo! 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 Allora ragazzi! Bravo! Benvenuta a Mike! Finisci... Fuori 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 fuori! Puntalo! Puntalo! puntalo chi è questo calma ricomponiamo dentro allunga allunga mozzo vai buco vai buco bella bravo Leo vai Francesco vai buco vai buone di testa vai Fede vai buone vai Fede vai buone oh che ci ha misi il luxo vai forza dai buone bravo Leo vai buone forza la scelta dai bema dai bema è lucera posso dai morti un troppo non troppo stanche vieni uno dei due deve rompere oh ragazzi ma perché cosa c'era ma non è fanno mosca mosca lascia la stella ma che ce n'è uno libero ragazzi bravo Muzzo bravo 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 Tony bravo Tony si mosca prendiamoli in prima pressione dai 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 si fa le si fa le si fa le vince il campo difende bravo Tommy dai me no 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 c'era 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 dentro 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 vieni dai dai Franci due contro uno dai dai Muzzo dai 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 bravo 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 Monte bravo Monte mi dovrebbe farmi male ? bravo che è passare bene basta graduates bravo 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 dai bravo 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 io lo sento nelle spalle io mi ricordo l'anno scorso quando avevano perso tutta la partita un po davvero dai dai su ragazzi vede girati bravo, bravo, fermarti lì bravo, va bene ma niente, Mosca ha sbagliato definitivamente dai dai franci vai a ruotare troppo perché mi metto il sostegno postura, fede fede c'è lì, c'è lì, svuota, svuota, bravo per il cambiolato, per il cambiolato dove va? dai c'è lì, dai c'è lì calma, 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 torna a gestire bravo, corretti fuori bravo, bravo, bravo bravo, bravo gira, mozzo eh vede vai, vede vai, vede vai, vede vai, vede vai, vede tai c'è lì, c'e lì, c'è lì c'era, c'era una partita Sì, sì, fuori, fuori, fuori. Sì, sì, fuori, fuori, fuori. Sì, sì, fuori, fuori, fuori. Sì, fuori, 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 fuori. Fuori, 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 fuori. Tento! Ha sbagliato il passaggio. Vai Muzzo! Vai! Vai Muzzo! Ma che c'è ora? Ma che c'è ora? Vai Memma! Vai Cela! Vai Cela! No! Non ci credo! Ma io ci credo io. Bravo Maceo! Ma che c'è ora? Muzzo! 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 Tomi se pronuncia vai Memma! Che numero uno? A fare 9 o 8! Oh no no! 8 8! 8! Fede! No il lì 8 è Fede! Ma è Muzzo! il 9 è buono no il 9 è buono la mattia lo è sti calma 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 lo è mozzo mozzo un numero 11 mozzo è numero 11 no mozzo è fede è lotte l'11 è monte ma tu sei un casino no monte ma non sono ancora finito perché ci sono premiazioni è vero è morto è morto è morto vai dai ma albero vendito guardi Mike Schocha Mike Schocha bella dai 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 come si chiama? Cele fisca 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 no siamo 30 dietro dietro fisca dentro dentro bravo franci franci bravo pali bravo pali fisca fisca Grazie a tutti Grazie a tutti Complimenti ragazzi Tutti i trofeini Vediamo Primi classificati Vabbè adesso ci pensiamo Fate le foto di Rita L'ultimo applauso Così andiamo a mangiare Chiudiamo la serata